Riprende proprio questa sera di oggi, 7.17, per la ventesima edizione, ci apposta per te, il programma condotto da Maria De Filippi che venò da su Cale 5. Tante le storie che vengono proposte, tante le coppie che cercano di congiungersi, tante le vicissitudini di tipo sentimentale a cui dover far fronte, di cui la bella Maria De Filippi riuscirà a entrare nel marito. Super ospite di questa prima puntata nell'anno 2017 è Richard Madden, attore della Scozia che, vi ricordo, ha interpretato il ruolo di Cosimo dei Medici nella fiction della Rai, i Medici e Rob Stark, nella serie Calt e il Trono di Spade su Sky, la emittente televisiva. La richiesta, per così dire, che arriva da Fabio, un giovane fanciullo che ha voluto fare una sorpresa alla moglie, affetta da tutto la scuola simultica. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, per la visione, per la visione, per il mio saluto e a presto.